Dominatore e sottomessa, in cosa consistono questi ruoli? Allora, una delle pratiche, diciamo, del sadomaso è quella del dominatore maschio o master e della donna sottomessa o slave. Esistono, diciamo, all'interno di alcune relazioni di coppia, alcune dinamiche erotiche che si spingono oltre a quelle che potremmo definire la sfera sessuale tradizionale, per trasformarsi in giochi di ruolo estremi che danno piacere sia dal punto di vista fisico che psicologico. In questo caso è il caso, diciamo, dal rapporto che nasce tra il dominatore, il padrone, tra virgolette, la sottomessa alla schiava. Diciamo, comunemente il ruolo di dominatore in questi giochi è un indole di un maschio alfa, un maschio dominante, mentre la donna passiva, la donna sottomessa, difficilmente lei prova piacere in questa pratica, mentre invece è diverso quando il maschio feticista vuole essere sottomesso, ma lo fa, tende a farlo perché è innamorata, perché è coinvolta da una figura carismatica, da una figura di potere, per cui, diciamo, si crea questo rapporto che può essere anche un rapporto molto profondo che si manifesta durante la pratica sessuale, ma anche al di fuori della pratica sessuale, nella vita di tutti i giorni. Il dominatore è colui che ha il potere, detta le regole, decide tutto quello che la donna in questo caso deve fare. È una figura che normalmente è autoritaria, severa, intransigente, fantasiosa e, da un punto di vista mentale, il bisogno è quello di dominare, di avere potere sul partner. Ha la responsabilità, però, di dare emozioni. Il dominatore, diciamo, utilizza, tra virgolette, anche strumenti di sottomissione, no? Quali frustini, collari, manette, insomma, cose di questo genere, per il controllo anche dei movimenti. La sottomessa, da un punto di vista psicologico, accetta incondizionatamente di appartenere, tra virgolette, al suo padrone. Il suo unico obiettivo è quello di dargli piacere, rinunciando al controllo. E spesso lo fa per amore, diciamo. Il piacere nel maschio avviene proprio per una forma di sadismo, in questo caso, e nella donna, dopo un po' di tempo, l'amore si trasforma in un amore masochistico. Ovviamente questa relazione è sempre consensuale, cioè nel senso che è un gioco di ruolo, fondamentalmente. Seguimi su YouTube, Massimo Terramasco su Instagram, Massimo Terramasco ufficiale su TikTok. Ciao a tutti!